Siamo per vedere insieme foto splendide, foto che ritraggono alcuni particolari della natura, degli animali, foto che hanno portato una cremonese a vincere un importante concorso fotografico. Benvenuto a Giuseppe Bonali. Buongiorno. Allora, Giuseppe Bonali, fotografo amatoriale, anche se le fotografie sono veramente super professionali, fotografo amatoriale perché in realtà lei ha un'attività molto lontana dalla fotografia, quindi è un commerciante, un commerciante ambulante. Ambulante, vengo via dal mercato adesso. Dal mercato, perché oggi è mercoledì, è giorno di mercato, quindi lei ha lasciato il suo banco, ma i suoi clienti dovranno pazientare oggi. Allora, grande passione presumo da sempre, da quanti anni? Negli anni 90, è nata negli anni 90 praticamente, è nata quando mi sono sposato, ho cominciato a fare le prime fotografie perché dovevo documentare il viaggio di nozze con una compatta e poi avendo uno zio fotografo appassionato, un fratello amante della fotografia in bianco e nero, mi sono appassionato anch'io vedendo delle belle fotografie, ho capito che dovevo fare della strada e insomma sono arrivato adesso. Allora, Bonali è tra i vincitori di un concorso indetto niente di meno che dal National Geographic Italia per la fotografia naturalistica. Pensate, oltre 5.000 partecipanti che in tre mesi hanno inviato più di 20.000 immagini, immagini che sono veramente splendide, quindi si vede un po' di tutto, perché poi quando si parla di fotografie che ritraggono la natura veramente la fantasia può galoppare. Ebbene, Bonali da Robecco D'Oglio ha scattato la foto premiata che ha per soggetto una formica. È questa? No, poi la vediamo, poi la vediamo. Le foto che ha presentato si concentrano su piccoli insetti, mi pare di capire. Sì, io... Quindi particolari. È questa qui, fermiamoci un attimo qui per favore. Questa è la foto che ha vinto appunto il National Geographic, quindi con grandissima soddisfazione da parte sua. Soprattutto inaspettata, perché spesso io partecipo ai concorsi nazionali, soprattutto internazionali, nella mia categoria praticamente, o categoria che si chiama altri animali, che sono gli animali più piccoli. Perché è facile fotografare un leone, è che ci vuole. E poi è la formica qui. Sì, e praticamente invece nel National Geographic ho dovuto competere con un po' tutto il genere degli animali, appunto dal leone all'elefante a foto subacquee, di tutti i generi. Eppure la formica, piccola piccola. Senta, andiamo un po' nella tecnica. Come ha realizzato questa foto? Questo scatto è stato eseguito con una reflex, praticamente una macchina fotografica professionale, ma con un obiettivo molto vecchio, degli anni 55 circa. Andrattura. È un obiettivo completamente manuale, a vite. Un obiettivo tedesco però. Tedesco, tedesco. Un obiettivo tedesco. Un obiettivo tedesco. Un obiettivo tedesco. Una buona qualità, non super qualità, ma una buona qualità. E questo obiettivo, usato in un certo modo, aiuta a creare delle immagini un po' artistiche. Nello stesso tempo ti mette molto in difficoltà, perché bisogna usarlo in un modo in cui non bisogna avere luci parassite. E spesso, purtroppo, abbiamo delle luci parassite che invece di aiutarti ti mettono. Le luci parassite. Sì, no, le luci. Praticamente la luce è diventata... E in questo caso come ha illuminato la formica? No, la luce è naturale. È naturale. È naturale. La luce è naturale, convogliata con dei cartoncini per cercare di convogliarla sul soggetto un semi contro luce. E niente, con un cartoncino cercato di riilluminare un po' davanti il riflettente, per aiutare, insomma, non far diventare troppo scuro il soggetto. La formica collaborava o era un po'... La formica bisogna aiutarla a collaborare. Come l'ha aiutata? Che sta facendo? Allora, l'idea è nata perché spesso io fotografo formica la mattina presto, quando c'è la rugiada. Ci sono delle zone dove abito io, umide, e vedevo appunto le formiche che andavano a bere le goccioline d'acqua. Il problema grosso è che spesso si fermavano troppo poco, un secondo, due secondi, e quindi non avevi neanche il tempo, eccetera. Allora ho avuto l'idea di togliere una gocciolina e mettersi un po' di zucchero, acqua zuccherata. Quindi la formica intanto si soffermava sulla gocciolina più tempo, non le dico un minuto, però 20, 10, 30 secondi di tempo proprio di preparare. Dopo c'era la possibilità di rifarla perché la formica interessata al dolce faceva il suo giro e poi ogni tanto ritornava. Quindi ho avuto più possibilità. Ho fatto fotografie anche senza bisogno di emettere la goccia, però questa è tra quelle che è venuta meglio. Poi adesso possiamo andare avanti e vedere anche le altre. Le altre sono state comunque presentate al concorso? Questa è una nuovissima, non l'ho mai presentata a nessuno, non so se la presenterò mai in concorso, però sto facendo un discorso di fotografare dei fiori oppure dell'erba poco conosciuta, cioè molto conosciuta, ma allo stesso tempo non importante. Invece di fotografare un giglio, per il fisico fotografare un tarassaco, un fiori di tarassaco e dare il valore. Quindi fiori più comuni, cioè valorizzare le bellezze che comunque sono comuni, ma vanno ricordate, non vanno dimenticate. Qui per esempio? Qui siamo ancora più o meno nella stessa zona della formica perché c'è appunto una zona dove prediligo fotografare. Anche qui la luce è stata a convegniare, è la luce della mattina presto, è un contoluce, si vede nettamente, e se si vede sulla destra c'è un riflesso bianco perché i ori, praticamente la luce viene dalla destra. E sulla sinistra si vede il fungo, è illuminato anche da dietro con un pannellino riflettente, casalingo. I trucchi del mestiere. Per aiutare a dare un'atmosfera particolare. Allora, la foto della formica ha vinto anche la medaglia d'oro nella sezione delle foto proiettate della diciassettesima biennale FIAP Natura. Ricordiamo che poi c'è la FIAF, che è la Federazione Arti Fotografiche, di cui lei fa parte. Sì, faccio parte. Poi dal 90 è socio anche del gruppo fotografico cremonese presieduto da Mino Boiocchi. Quindi insomma, veramente c'è una grande attività e grande interesse attorno alle fotografie e speriamo anche che crescano nuove generazioni, no? Adesso si va presto a fotografare, molto facile, però bisogna magari trovare un po' più di impegno per capire come si realizza una bella foto. Tutti credono di poter scattare così, o no? Rispetto, sì, in effetti sì. Bisogna impegnarsi molto, soprattutto avere costanza, perché è importante capire come gestire la luce. Ci sono parecchi giovani che appunto con i telefonini stanno cominciando a fotografare e si avvicinano alla fotografia molto più di una volta. Quindi sono concorsi anche per foto scattate con macchine fotografiche? Con telefonini, sì. La FIA sta praticamente aiutando anche i giovani fotografi che non hanno la macchina fotografica a mettersi in evidenza, perché anche con un telefonino si può eseguire delle belle fotografie. Indubbiamente. Dobbiamo chiudere, vediamo qui alcune copertine. Questo è il National Photography Award for Nature and Environment, 2013, è in copertina? Sì, la mia fotografia è stata usata. Ha vinto il primo premio negli altri animali, come dicevo prima, e hanno utilizzato la mia fotografia come copertina. E' una veramente una grossa soddisfazione, perché lì abbiamo avuto a che fare con più di 25.000 fotografie da tutto il mondo. Vabbè ragazzi, poi le formiche fanno sempre la loro bella figura. Qui invece cambiamo soggetto. E' lì quando ho vinto la Coppa del Mondo. Ho vinto la Coppa del Mondo con la nazionale italiana, ma soprattutto la mia fotografia di quel moschino lì che sta digerendo in quel momento lì, ha vinto la medaglia d'oro alla Coppa del Mondo del 2012. E per chiudere il numero di dicembre, quindi del mese scorso del National Geographic, eccolo qua, cibo per l'anima e all'interno appunto la foto del nostro Bonali. Eccola qua. Allora, ok, Giuseppe Bonali, complimenti. Aspettiamo naturalmente altre foto e altri concorsi. Ci saranno delle novità. Ci saranno delle novità? Si possono già annunciare? Si può annunciare perché mi hanno chiesto, praticamente quando si fanno certi concorsi, siccome che nella natura non si può fare trucchi a livello di post-produzione, chiedono l'originale che non si può praticamente modificare. Chiedono l'originale. Siccome in tre concorsi internazionali mi hanno già chiesto l'originale, vuol dire che potrei essere la prima. Bene, bene. Addirittura, siamo qui. Ci faccio sapere, mi raccomando. Complimenti, grazie Giuseppe Bonali. La lasciamo alle sue clienti. Grazie a tutti.